Buongiorno amiche yeee pepepepepepepepepepepepepepepepepe Oggi sì pepepepepepepe è sabato sono super felice E finalmente facciamo un po' di skinker in pace con tranquillità Il pensiero positivo di oggi amiche mie è impariamo a dire anche no Sì perché ci dobbiamo voler bene A volte le persone cercano di farci dire di sì anche quando non lo vogliamo dire Impariamo a dire di no, proviamo a volerci bene fregandocene poco poco, senza esagerare amiche mie, non è che mo' dobbiamo dire di no a tutti, però una via di mezzo secondo me ci vuole perché io faccio un sacco di fatica a dire di no e devo sforzarmi di cercare di non dire sempre sì perché non è diciamo bello per me stessa. Quindi volerci bene vuol dire anche questo, skin care assieme amiche volando come sempre, abbiamo passato, tamponato, massaggiato con i dischetti di cotone lavabili in lavatrice e riutilizzabili all'infinito oserei dire perché sono ancora nuovissimi, il bellissima, la dolcissima lozione addolcente di Shiseido Benefiance. Abbiamo passato amiche mie, massaggiato il siero attivatore di giovinezza di Lancome, abbiamo messo la crema contorno occhi Advanced di Lancome e la crema anche Genifique Advanced, quindi tutta la serie, tutto il filotto di Lancome l'abbiamo utilizzato nel nostro viso. E stiamo applicando adesso la crema collo di Clarence, l'extra firma in collo e decolletè che è un trattamento giovinezza decolletè collo, levigante e rassodante. Quindi super e come crema solare, applichiamo la Daily Defender di Pupa, fluido protettivo 7 fattori con ginseng indiano ed SPF 50, massaggiamo sul viso, collo decolletè e manine mi raccomando. E nelle manine oggi applichiamo la Prada Candy Floreale che è una crema per le mani che mi hanno regalato in profumeria con gli acquisti ed è super profumata, mi piace tantissimo. Nelle labbra applichiamo un balm idratante al miele di Nuxe, è bellissimo, è super profumato, mi piace tantissimo la profumazione di questo burro cacao. Maggini, pini, brufolini e le occhiaie da pandina, noi amiche tutti i giorni, come le contrastiamo? Io vi sento che l'ho di te, con il fondotinta e con il correttore. Il fondotinta che utilizziamo oggi è il My Skin Tone di Bella Oggi, non transfer, con SPF 15, un fondotinta universale Long Wear, in colorazione 20N, My Skin Tone Vanilla Rose. Invece il correttore è di Shiseido e in colorazione 6Honey, ne ho trovato uno nel fondo del cassetto, amiche, l'avevo comprato tempo fa e niente, lo utilizziamo. Era ancora, diciamo, chiuso e quindi bisogna utilizzarlo, non si butta niente. Poi di Shiseido si era costato tipo un rene, amiche mie, quindi lo utilizziamo assieme e non lo buttiamo. L'ho rinvenuto nel fondo del cassetto e mi era scappato e non l'avevo utilizzato. E la cipria che utilizziamo oggi è la Lace Baking Powder di Revolution No Flashback Super Matte Fix. Mi piace tantissimo perché mi setta benissimo la base e è di facile applicazione, non fa assolutamente mai macchie. Il blushino che utilizziamo oggi è di Wet n Wild ed è della linea di Marilyn Monroe, bellissimo. È un rosa molto luminoso e anche un pochino glitterino, un po' di perlescenze secondo me. Quindi se vi piace come me la perlescenza qua la trovate tutta. Invece la palette che utilizziamo per scolpire il luminare di Revolution Pro ed è molto carina. Si chiama Desert Sky ed è bellissima. All'interno c'è questo bellissimo bronzerino, una terra, non è tanto scura, però è molto carina. E l'abbiamo applicata con il pennello, carino maggio, con la terra di Collistar, la 222 Sole di Adriana Spink. E l'illuminante è bellissimo, veramente molto carino. Amiche mie, sono super contenta di questa palettina, ma la palette di oggi, amiche mie, chi la sceglie oggi, sia mi che la scelgo io. Sono strega, comanda, color, celeste blu. Per una volta, amiche, ogni tanto scelgo anche io, eh. Ho giocato da sola, sono stata un po' birbante, ma sono super contenta. Avevo voglia di celeste, ho deciso che oggi giocavo da sola, così mi sceglievo il colore. E ho scelto anche la palette, ho scelto la palette di Scooby-Doo per Wet n' Wild. Nella palette c'è scritto Scooby-Doo, where are you? È super carina. L'ho pagata poco, l'ho presa su Amazon ed è molto molto bella. Mi piace sia nel pack che nei colori che ci sono. Sono colori veramente molto belli e anche vari, perché abbiamo il rosa, il celeste, il verde e l'arancione. Un bellissimo bianco super cremoso che è un po' champagne, un blu scuro. Quindi oggi avevo assolutamente voglia di utilizzare l'azzurrino, il celestino presente all'interno di questa palette. E ne metto, amiche, un carrettone, un chile e mezzo, mi sfogo. Volevo il celeste e l'ho accattato e ho detto, oggi gioco da sola. Tanto, amiche, chi è più streghetta di me? Nessuno. Più strega di me non ce n'è, sono la vostra streghetta preferita e mi sono autoscelto, autogiocato a strega comanda color. E per dare un po' di profondità allo sguardo, ho schiaffato su una bella riga di blu scuro, che tra l'altro è super perlescente glitterino, veramente molto 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 carina. Come colorazione è intensa. E oggi avevo voglia di celeste. Celeste, color celestiale, poi nella parte interna dell'occhio ci schiaffo pure questo bellissimo color champagne, che è morbidissimo, eyeliner a chili, perché come se non ci fosse un domani l'eyeliner, ci faccio una bella riga spessa e guai a chi mi dice, amiche, oggi quando mi vedranno in giro mi diranno sobria, oggi sei molto sobria nel make-up, non me ne frega nulla. Io volevo un bel make-up extra e quindi oggi, amiche, vado in giro così, mi beccano così in giro, il panettiere, il giornalaio, tutti quelli che mi vedranno con questo look super sobrio. Ma non ce ne frega nulla, amiche. L'importante è che ci piaccia e che siamo contenti e soprattutto che ci sentiamo a nostro agio. Amiche, oggi come sempre, mille lavatrici da fare, ma sono contenta che mi sta un pochino passando il mal di gola. Quindi sono super felice. Ovviamente, amiche, come tutti i sabati, mi sono svegliata con un po' di mal di testa, ma ci sta, ci sta. È il relax che lo fa, solo sapere di essere a casa mi fa venire un po' di cerchio alla testa. Ma sono super contenta, innanzitutto per il colore, per la voglia di fare, perché ho voglia oggi di fare mille cose. Fatemi sapere se vi va nei commenti cosa fate di bello oggi che è sabato. Innanzitutto, io non mi dimentico, amiche mie, anche di voi, buon lavoro a tutte le amiche e gli amici che andranno a lavorare oggi, che è sabato, ma anche domani, che sarà domenica. Buon lavoro a tutti quanti e grazie soprattutto. E amiche mie, come posso dire, non lo so, un animale veloce, come una scheggia, è già finito il make-up di oggi, super veloci. Abbiamo messo anche il mascara e un brillocchetto non può mai mancare. Quindi nella parte alta dello zigomo ci mettiamo un brillocco e via che si vola verso le faccende, fare la spesa. Voi fate la spesa di sabato, non so se ve l'ho mai chiesto, fatemi sapere nei commenti se vi va, se fate la spesa di sabato. Abbiamo applicato il brillocco e oggi applichiamo un po' di lip gloss di Kiko, super scintillante, rosa, me l'avevano regalato i miei bambini, questo qua, e quindi è super carino, mi piace tantissimo. Io vi mando come sempre un bacino per farvi vedere il colore del rossetto, inquadratura da vicino per vedere da bene bene da vicino il nostro ombretto di oggi. Fatemi sapere se questa palettina vi piace e come sempre noi ci sentiamo nei commenti per raccontarci tutto quello che volete. Io vi mando un bacio grande 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 e ci vediamo come sempre nel video del pomeriggio. Ciao amiche, a dopo, buona giornata!